Il secondo brano che eseguirà il nostro Federico Piccioli è di Fernando Sor Variazioni sul flauto magico e Fernando Sor è un compositore spagnolo di Barcellona tra 7 e 800, concertista preromantico riveste un ruolo importante questo Fernando Sor nello sviluppo della tecnica chitarristica del XIX secolo notorietà a Parigi e concertista in tutta Europa ascoltiamo, ecco, variazioni sul flauto magico a Parigi e concertista in tutta Europa a Parigi e concertista in tutta Europa a Parigi e concertista in tutta Europa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.